buongiorno buongiorno amici e amiche sembra di essere a tokyo sotto un bel albero di ciliegio ma così non è perché siamo a milano siamo a san donato e oggi vi voglio girare un video un po particolare cioè vi devo svelare questa cosa io quando ho aperto il secondo canale uno dei primi video che mi erano venuti in mente è proprio quello che facciamo oggi oggi vi porto con me in una delle altre mie ossessioni che sono i mercatini delle pulci andiamo a fare un giro e là dietro andiamo a vedere che magari qualcosa di carino lo troviamo venite con me prima però di farvi vedere che cosa ho comprato volevo raccontarvi un po il mio rapporto con questi mercatini perché io questo mondo lo frequento da tantissimi anni e ho vissuto la sua esplosione proprio sulla mia pelle perché all'inizio eravamo in pochissimi a frequentare questi posti e i prodotti che potevi trovarci dentro non erano assolutamente quelli che state vedendo in queste immagini una volta erano quasi esclusivamente bancarelle che trattavano oggetti molto vecchi mobili o comunque roba di poco valore poi negli anni il mercato dei mercatini è completamente esploso andando a braccetto con l'esplosione dei collezionisti io mi ricordo benissimo quando ero piccolino giravo per le bancarelle sperando di trovare un videogioco una carta pokemon o qualcosa che potesse attirare la mia intenzione cose che oggi sono all'ordine del giorno ma che allora erano una vera e propria utopia mai gt non li hai che la pittura non mi fai paura calma 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 allora ho riguardato le immagini e non si capisce bene che cosa succede ve lo spiego allora io sto passando per le bancarelle quando il mio sesto senso da ragno istantaneamente nell'aria capta queste parole ed erano dragon ball carte le ho tenute in cantina magari stava bleffando quello della bancarella fai paura non lo so magari ha visto me ha detto adesso dico queste parole vediamo se riesco a fregare qualcuno non lo so lo scopriremo dopo quando andiamo a vedere insieme che cosa ho comprato ma appena sento queste parole vado nella bancarella tra l'altro bancarella che io avevo già visto altre volte e le altre volte che era andato in questa bancarella lui non aveva niente di tutto ciò che potesse minimamente interessarmi è uno che vende tipo oggetti usati insomma un casino bancarella super mega incasinata allora vado lì e gli dico al signore ma mi scusi ma in che senso dove posso trovare dragon ball carte di che cosa stavo parlando e lui mi dice ma guarda quella frase che ogni persona che va ai mercatini vorrebbe sentire magari l'aveva preparata dice questa frase ma va l'avevo giù in cantina una volta ho ritirato dei bancali di un fallimento di un edicola io così già stavo piangendo dentro di me ho ritirato dei bancali di un fallimento di un edicola li ho tenuti giù nella mia cantina lui mi dice l'ho tenuto giù nella mia cantina per dieci anni e mia moglie settimana scorsa mi ha detto dai tiriamoli fuori che è arrivato il momento di venderle ma io sono impazzito letteralmente chissà se le ho comprate lo scoprirete tra poco quando andiamo a fare l'unboxing ovviamente mi sono fatto dare il numero dal tipo quindi in base a come andrà sempre che se le ho comprate lo scoprirete tra poco mi son fatto lasciare il numero del tipo vediamo se mi è andata bene oppure no adesso torniamo al video quasi due ore quasi due ore sono stato all'interno del mercatino bottino preso adesso andiamo in studio che vi faccio vedere che cosa ho preso attenzione fratelli e sorelle attenzione perché c'è un plot twist incredibile in tutta questa storia ma andiamo un attimo con ordine prima l'avete già visto c'è il mio bel sacchettino con tutte le cose che ho comprato nel mercatino delle pulci andiamo a vederle con ordine e poi vi spiego plot twist incredibile allora partiamo prima con due cose molto semplici da farvi vedere allora queste qua premetto subito il valore di questi due fumetti che ho acquistato che vi faccio vedere è praticamente nullo cioè il valore in realtà di questi fumetti l'ho pagati 5 euro l'uno è veramente basso ma a me servono perché ovviamente sono numeri che a me mancano e quindi l'ho presi semplicemente perché sono interessato perché li leggo mi mancavano all'interno della mia collezione mi mancavano questi due fumetti ve li faccio vedere al volo il primo è questo qua che Avengers vabbè Capitano America vive ancora anno 1 numero 4 ovviamente questo mi mancava ed è abbastanza recente lo capite anche dal fatto che comunque qua è espresso in euro è del 2015 come vi dicevo il valore di questo di questo fumetto è praticamente nullo se non insomma un valore affettivo per quanto mi riguarda perché ovviamente mi mancava stesso discorso vale per questo secondo fumetto che è iron man ed extremis si chiama questa parte 1 e anche questo non vale non vale praticamente nulla e l'ho pagato 5 euro però insomma a me servivano entrambi ma veniamo al fulcro del video che cosa è successo ragazzi dal video che avete visto ieri io mi sono un attimo informato perché io a un certo punto da quel signore che avete visto prima io ho comprato 1 2 ve li faccio vedere io ho comprato 1 2 3 4 e 5 cose direttamente da quella bancarella io per girarvi questo video come faccio sempre ovviamente mi informo no cerco informazioni io per venire qua ho detto acquisto queste cose che io non avevo mai visto acquisto queste cose poi vado a casa prima di girare il video le cerco online cerco di capire che cosa sono e lo spiego ai miei fratelli e le mie sorelle e che cosa succede che io mi metto a cercare online questi prodotti e non trovo assolutamente nulla allora cosa faccio ho detto vabbè magari online non trovo nulla provo a scrivere a insomma youtuber o comunque persone che anche voi conoscete bene che di lavoro fanno i collezionisti di carte li contatto tramite instagram o chi whatsapp con i miei amici insomma che che fanno quello di lavoro li scrivo e tutti mi danno la stessa identica risposta lollo mai visto niente di quel tipo quindi tutti mi hanno detto la stessa identica cosa cioè lollo assolutamente non aprirle lollo non spacchettare quello che tu hai in mano quindi ragazzi questo video che era partito con vado a san donato compro qualcosa poi vengo nel mio qua nel mio studio tra l'altro oggi questo video volevo girarlo ovvero nell'altro studio ma nell'altro studio ho già montato tutto il set per la casa dobotica quindi non avevo spazio di là ho deciso di girarlo qua invece da questo studio e tutti mi hanno detto la stessa cosa lollo assolutamente non spacchettarli tieni così ma di che cosa stiamo parlando ve li faccio vedere sono ovviamente delle carte di dragon ball questa è una serie di carte prodotti dalla edicola preziosa sono stati prodotti nel 2007 e come vedete sono ancora tutti completamente sigillati sia la confazione che le carte all'interno di questi ne avevo comprati due perché di questi ho detto ne compro due uno me lo tengo e l'altro lo spacchetto ma tutte le persone che ho sentito mi hanno detto tutti assolutamente di non di non spacchettare e dopo aver comprato queste due questi due mazzi perché si chiamano i mazzi dopo aver comprato queste due ho visto che la stessa pancarella infatti se fate caso a un certo punto il signore dice ma non è che voi anche quelle di dragon ball gt perché aveva anche i pacchetti chiusi di dragon ball gt e infatti ho comprato questo e ho comprato sia dragon ball normale 10 carte collezionabili insomma della stessa sono prodotti da due in questo caso questi qua sono prodotti dalla dual cards e non dall'edicola preziosa però il signore diceva che li ha trovati tutti insieme ha ritirato appunto il fallimento di cui vi parlavo prima tutti insieme comunque questi qua sono pacchetti chiusi uno di dragon ball normale uno di dragon ball z e l'altro di dragon ball gt cosa ci sarà all'interno non lo sapremo mai sono diventato ricchissimo ne dubito però fatto sta che questo ragazzi quello che è successo oggi è esattamente il motivo per cui io vado ai mercatini perché non sai mai che cosa può che cosa ti attende o in che avventura ti sta infilando nel momento in cui vai in dei mercatini quindi per concludere questo video io non so se queste qua realmente hanno valore fatto sta che comunque le persone a cui le ho fatte vedere e sono più di una persona tutti mi hanno detto la stessa identica cosa io quelle cose lì non le ho mai viste quindi tutti mi hanno detto siccome io quelle cose non le ho mai viste ti consiglio di non aprirle quindi ragazzi stavo dicendo per concludere questo video non lo so se queste cose hanno valore o meno io per non sbagliare io le prendo e me le tengo nel cassetto e me le tengo lì chiuse per i prossimi 10 anni magari tra 10 anni magari varranno veramente qualcosa spero che questo video vi sia piaciuto se avete domande o considerazioni come sempre scrivetemele qua sotto e basta spero spero che vi sia piaciuto ciao a tutti un bacio un abbraccio e come sempre buona vita ciao